Ok ragazzi, ho finito di mangiare, andiamo. Faccio bene. Ecco la mia risposta Senti, è questione di sopravvivenza Vedi di non scassare i coglioni Non sapevo Non penso proprio Non sopravvivenza Ma semmi pensi Non sopravvivenza 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 La bottiglia La bottiglia Ti ammazzo, figa Ammazzalo, ammazzalo di botte Ammazzalo 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 Cosa Cosa Clem Hai fatto bene No No Patatina Hai fatto bene Non sopravvivenza 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 E' bene Scusate, eh? Mangia o vieni mangiato, no? Ma che cazzo? Ragazzi! Ma che cazzo? Ma un sconosciuto, no? Non c'è nient'altro a vedere? No, ok, andiamo. M**chio. Dai, lì! Quanto sei bello. Mi assomiglia. E quindi... Sì, siamo fuori da Savannah. Cosa stai ch... Eh? Oh no! No, no, non penso di aver capito. Stai scherzando, vero? Ma che esquifo! Caraca! Ancora ancora basta lì cazzo patata povera che carino andiamo cazzo walkie talkie vabbè lascia stare walkie talkie oh no inizia a vedere sfoccato scusi mi lasci passare che oh scemo di merda cazzo mi spintoni cerchi bot si abbracciano sti due no cosa ma mi direi che quella è sua madre vero no stai scherzando vero no no lì non ci credo non è possibile ma perché sveni sempre nei momenti più amore come here sleepy no Lamentà, dobbiamo uscire da qui così fastidio che possiamo. No, non possiamo! Ci sono milioni di loro fuori! Dobbiamo. Voglio proteggerti. No, 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 è vero! Ho salvato tu! Siamo sicuri qui, ci siamo fermi. Abbiamo preso la porta. Non posso! Facciamelo! Ma ho sbagliato o i suoi occhi si stanno trasformando? Solo un po' aperto quando l'ho trovato. Ho chiudato per mantenermi sicuri. No, 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 no. Poi a tre. Uno, due, tre! Ah, cazzo... Dai, non mi direi che non si apre. Non ci credo... Non ci credo... Sì? Clementine, money? Cosa... Cosa è... No... Non... 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 Sì, è così. Andrà tutto bene. Lo dico sempre, non è ancora... Niente... Bene... Cosa più rassicurante, cazzo. Ci sono delle collane, regalagliene un... Scherzo no. Scusi, buongiorno. C'è anche una pistola, il tizio. C'è anche una pistola, il tizio. Allora, andiamo. Potrebbe essere un po' più lentamente. Ah! Spero aiutarti. Ah, sì. Di questi momenti indimenticabili. Merda, che scherzo. Tu... tu puoi leanerci su me, se hai bisogno. Sono ok, sono ok. Mi pensavo di aiutarti a portarti qui. Ma è tranqui. Tu non potessi sapere. Ti avevo detto. E' stato strano all'hotel. Sì. Continuando. E' quasi... Sì. Dai. Oh, che bordello. Salvi, Lee. La porta è proprio qui. Dai, alzati lì. Dai lì. Cazzo, non ne va mai una con... questa roba che devi schiacciare la... Eh, non è possibile. Tu hai bisogno... No, non posso muovere. Questo è tutto per me qui. Porro, porro, provi a riuscire! Non posso. Non hai tanto tempo. Devi fare qualcosa... fasto. Come cosa? You need to get out of here as soon as you can. I can't leave you! Just work on getting out, okay? We'll figure it all out. Don't worry. We'll get you in there. Don't worry. We're doing good. Just start by getting that door open. It's locked. It's no big deal. It's just a glass window. Ow! It's locked with your hand. Use... Dice a vaso. There's a baseball bat under the counter clip. You can use that. Use the bat to shut that window. So you can reach in, okay? Okay. Watch out for the broken glass. No, attenzione allo zombie dentro. Don't be afraid of the money. You're smart. Yes, you're smarter than all of us. Yes, you're smart. Yes, you're smart. Yes, you're smart. No way out through there, Clem. I know. Don't be scared of the walker. You'll be fine. What do I do? What do I do? Ah. Grab the chair, Clem. Use it to reach in, for the lock. No, the... There's a bell. No, no. No, there's a bell. No, no. No, no. Okay, I'm happy. Yeah. Open it. He's... It's a threat. This will be easy then. He has keys. Probably to that door. E tutto ciò che bisogna. E' bene. Cosa dobbiamo? E' una guida. E' bisogno di due. E se non posso muoverla, Andy? E' un po' di giù. Ok, Lee. E' un po' di giù. Lee? E' un po' di giù. E' un po'. Non lo so, Lee. Uiii Dai Clem che sei che sei forte ma piglia lì piglia eh infatti dai zitto cosa oh cazzo oh no qui l'amazza l'amazza dai ammazza la figa boom brava Clement vai 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 ancora ancora eh ma cretino che situazione di merda l'amazza Hey Hey You're strong, Clim You You can do anything But, I'm little Doesn't mean nothing You're gonna see bad stuff But It's ok My parents è davvero scolastico non posso immagino come siamo e ora... tu? per favore per favore non sei uno di loro per favore non diventa un uomo non fai solo è solo una cosa che puoi fare sai allora non so se posso non so se vuole ma volendo potrebbe anche narsini trovo a me di Christa ma non bevo il caffè ok, ancora minchia, tre ore che glielo dico e Clem eh e anche eh e anche e anche e anche le 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 Raga ve lo raga ve lo giuro il finale è davvero tristissimo veramente finito così non ci credo che è finito così E Clementine? Ho capito, Clementine? Ma che cazzo? Io al 28% ho tenuto il braccio Oh raga, ma non potevo tagliarlo il braccio Che cazzo di senso ha tagliare il braccio che poi muore di sanguato? Perso la pazienza Io al 25% dei giocatori Ha discusso con calma Va bene Io al 40% si è tenuto le armi Boh Hai ucciso il rapitore di Clementine Ok Io al 63% ho fatto sì che lì non si mutasse Ma è finito veramente così? Allora Sono sparite, l'hai lasciata sul ciglio della strada E hai deciso di rivelare il tuo passato La storia americana vi ha legati L'hai aiutato a salire sul treno Eltrepassato il segnale vi siete separati L'hai fidato Clem prima di Crawford Ti sei battuto per Ben a Crawford Ben ha perso la vita in un vicolo a Savanna L'hai confidato il tuo passato L'hai salvato la vita sacrificandone un'altra È stato ucciso da Lily L'hai difesa dalle accuse di Lily L'hai incontrata nel tuo giorno peggiore L'hai mostrato il morso Dopo esservi separati gli hai detto di trovarti Ah, dopo esservi separati gli hai detto di trovarti Hai chiesto di trovare a Clementine una famiglia È ricordato lui quando hai trovato tuo fratello È morto nell'attacco degli zombie alla drogheria Hai aiutato a salvargli la vita da Herschel Hai detto che non era stato morso a Mekon Ah, ok, sì Gli hai sparato prima che potesse mutarsi Ne hai fatto la tua spalla che risolve i misteri Stavolta voglio vedere se finiti i titoli di coda lì così C'è qualcos'altro Cioè, voglio sapere che fine ha fatto Clementine Cazzarola Quindi Finisce così Finisce veramente così Ah, ecco, ecco Immaginavo Piccola Ma è Crystal Mead? No, dove va? Sti cazzi però ha trovato un posto sicuro C'è 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 Ma porca puttana No, non può finire così E ma chi cazzo erano quelli? No, dai Ma Ma Cristo Comunque raga Arriverà anche alla stagione 2 Ve lo dico di già Dovrebbe arrivare la stagione 2 E' stato comunque Cioè, allora Ha vinto il premio di miglior gioco Ma se lo merita davvero tantissimo Cioè Il gioco Uno dei giochi più belli che io abbia mai giocato Veramente Fantastico Bellissimo Macri Sex Cappalli biondi Neri No, comunque davvero No Bello, bello Davvero Un ottimo gioco Io ragazzi Lo consiglio Davvero a tutti E Vabbè Adesso Non penso che Se avete seguito tutta la serie Non compratelo Ma per chi ancora Non l'ha giocato così Come nel mio caso Deve assolutamente farlo Perché E' troppo bello E niente ragazzi Quindi Ci vediamo alla prossima serie Che sarà la stagione 2 Di Walking Dead E un'altra serie Che deciderò cosa fare Che prenderà il posto di Saints Row Quando l'avrò finito Ancora adesso non l'ho finito Quindi Quando lo finirò Vedremo Vi lascio un po' di sorprese Nel frattempo Magari farò anche qualche Indie Horror E niente ragazzi Quindi Ci vediamo Alla prossima puntata Cioè alla prossima serie Anzi scusate Bella a tutti